Ieri tutto quel parlare di Suda51 mi ha fatto tornare in mente il capolavoro per DS, Flower, Sun and Rain, che sicuramente tutti voi avete giocato, no? Leo64 è stato il più veloce di tutti a riconoscerlo, mentre Lucia dice che si tratta della mia reazione all'annuncio dell'arrivo del Gamecube su NSO. Sì, probabilmente andrà così, ma secondo me è stata la stessa reazione di molti allo scherzone del Gamecube mini. Bei tempi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in dei video che presto metterò come privati. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché probabilmente sarà l'ultima dove andremo a parlare di Switch Pro, almeno per un bel po' di tempo. E preparatevi perché oggi è successo un casino. Poi discuteremo della data di uscita di God of War Ragnarok e delle sue Collectors Edition, che a mio avviso hanno tutte e due un problema gigantesco. E chiuderemo con il ritorno dell'eShop UI, più o meno. Prima di iniziare però vi invito ad aggiungere una O alla Pro e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di Internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti gli altri social. Ho pure caricato il mio primo TikTok. I link li trovate in descrizione. Ve la butto lì. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo con una raffica di notizie al volo e inizierei con l'angolino dedicato a Square Enix. Ci sono tre notizie riguardanti il publisher nipponico e la prima è sul porting per Switch di Nier Automata. C'è chi è rimasto parecchio sorpreso dalla qualità di questo porting, almeno da quanto mostrato nelle prime immagini, tanto che inizialmente si pensava potesse trattarsi di una versione in cloud. Invece, quello di Nier Automata è un porting nativo che sembra ottimizzato a dovere per sfruttare al meglio le potenzialità di Switch. E adesso sappiamo che dietro a questo progetto c'è il team Virtuos, uno studio che in passato si è già occupato di porting miracolosi o quasi. Tra i precedenti progetti della squadra figurano le versioni Switch di Dying Light, L.A. Noire, Dark Souls Remastered e anche la collection di Bioshock. Una plausa Square che sembra aver investito a dovere in questo porting. E intanto sono immerse anche nuove informazioni riguardanti Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, la remaster bella corposa del titolo uscito originariamente per PSP. Anche qui il lavoro svolto sembra essere tanto, quasi da tendere più verso un remake. Tra le migliorie a portate vengono segnalate una nuova gestione della telecamera e dei movimenti dei personaggi, un'interfaccia ottimizzata, un nuovo battle system basato su menu che credo andrà a riprendere quanto visto in Final Fantasy VII Remake e anche aggiornamenti del comparto audio con nuovi remix musicali e anche nuovi doppiaggi dei dialoghi. C'è solo un problema, le immagini sono troppo belle per essere vere, mi riferisco ovviamente alla versione Switch. Per quanto attenda con impazienza il ritorno di Crisis Core, siamo sicuri che tutto questo ben di Dio girerà nativamente su console ibrida? Invece abbiamo la sicurezza al 100% che Forspoken non uscirà quest'anno. Inizialmente previsto per maggio 2022, poi rimandato al prossimo ottobre, ora il nuovo action open world di Square è stato rimandato al 24 gennaio 2023. Nel comunicato ufficiale si parla di una decisione strategica, con il titolo entrato nelle fasi finali di produzione. Da una parte è un bene perché ottobre sarà un mese devastante, dall'altra questo Forspoken sembra un progetto estremamente ambizioso che fatica a trovare la sua identità. Speriamo bene, ma soprattutto speriamo che questo ritardo non influenzi anche la data di uscita di Final Fantasy XVI. Un piccolo aggiornamento su una notizia di ieri, è stato confermato dai diretti interessati che né Suda51 né James Gunn sono coinvolti in alcun modo nella remake di Lollipop Chainsaw. Quindi il progetto perde il suo creative director e uno degli iscrittori, però insomma il gioco rimane quello e a meno che non venga stravolto completamente il tono non ci sono i presupposti per storcere il naso di fronte a questo rifacimento. Aspettiamo di vedere le prime immagini. E in chiusura segnatevi questa doppia data tema Ubisoft. Domani, dopo anni di agonia, avremo finalmente il gameplay reveal definitivo di Skull & Bones, titolo in sviluppo da anni, che a quanto pare ora si è trasformato in un gioco principalmente orientato sul multiplayer online. L'appuntamento è domani alle 20, ora italiana, mentre a settembre ci sarà la nuova edizione dell'Ubisoft Forward, quello che è un po' il direct dell'azienda francese. Il 10 settembre, alle 9 di sera, avremo novità su tutta la line-up di Ubisoft, tra cui spiccheranno sicuramente il futuro della saga di Assassin's Creed e anche novità su Mario Rabbids Sparks of Hope, un appuntamento imperdibile anche per gli utenti Switch. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nelle ultime 24 ore abbiamo assistito a una nuova ondata di rumor riguardanti Nintendo Switch Pro, ma anche questa volta tutto quanto si è risolto in un grandissimo buco nell'acqua. Che sia questa l'ultima volta in cui sentiremo parlare di questa benedetta Switch Pro? Spero di sì, almeno nei prossimi mesi. Allora, il fattaccio è accaduto questa notte, quando alcuni utenti di Famicom Boards si sono resi conto che Nintendo aveva reso privati i video di presentazione di Switch Lite e OLED, apparentemente senza alcun motivo. Una pratica che però è stata già adottata in passato dall'azienda e anche da altri colossi come Apple e che ha in realtà una finalità pratica. Con il lancio di nuovi prodotti sul mercato si preferisce oscurare i trailer di annuncio passati per evitare confusione negli utenti e anche favorire l'indicizzazione dei motori di ricerca per evitare che l'algoritmo metta in prima pagina i video sbagliati. Da qui poi la fantasia della gente è iniziata a volare. I trailer erano disponibili fino a pochi giorni prima e non solo luglio è il mese in cui furono annunciati nel 2019 i Switch Lite e nel 2021 la OLED, ma quest'ultima fece la sua comparsa proprio un anno fa, il 6 luglio 2021. Uniteci le solite trollate e messaggi vaghi dei cosiddetti insider e tutte le maggiori testate si sono buttate con sicurezza sull'ipotesi che Nintendo stesse per annunciare la Switch Pro. E guardate, effettivamente la nuova console è arrivata, solo che si tratta di una OLED in edizione speciale Splatoon 3. I colori sono fighi, un po' eccessivi per i miei gusti, c'è anche il Pro Controller e la custodia protettiva, ma il gioco è venduto separatamente e uscirà un mese dopo, a settembre. Vabbè, comunque di Pro non c'è veramente niente. Ora però rendiamoci conto che questa notizia disinnesca qualsiasi possibile rumor futuro, almeno nel breve termine. Questa OLED uscirà ad agosto e proprio come accaduto per la Switch in edizione Super Mario, non esiste che Nintendo annunci prima dell'uscita di questa ricolorazione un nuovo modello più interessante. Quindi direi che il treno per la Pro è definitivamente partito e nessuno è riuscito a salirci sopra. Facciamo prima di ipotizzare quando arriverà la next gen di Nintendo, anzi mi lancio in un'ultima poro prediction. A luglio del prossimo anno verrà svelata la Switch definitiva, una Lite OLED, un modello che seguirà la stessa traiettoria del 3DS e della sua forma finale, il 2DS XL, e probabilmente sarà spinta dall'abbinamento con un nuovo gioco Pokémon. E voi poracci, ci credete ancora nella Switch Pro? E in questa giornata storica si è risolto definitivamente anche un altro rumor che aveva monopolizzato l'attenzione negli scorsi mesi, ovvero quello riguardante la data di uscita di God of War Ragnarok. E ci sono notizie sia positive che un po' negative. Vediamole. Dopo tutto il casino della settimana scorsa, alla fine è uscito il trailer con la data di uscita, che ha confermato tutto quello che era stato già anticipato dai leaker più attendibili. Il gioco uscirà nel 2022, sarà la produzione di punta della line-up PlayStation, e di preciso arriverà sugli scaffali il 9 novembre 2022. Ora il trailer raggiunge veramente poco e si tratta di un filmato in computer grafica messo in piedi solo per giustificare la data finale, però con esso è arrivato anche l'unboxing delle due edizioni premium del gioco, e anche qualche informazione aggiuntiva sul costo del titolo. In pieno stile PlayStation, le versioni PS4 e PS5 avranno due prezzi differenti, e chi vorrà effettuare il passaggio dalla versione old-gen a quella next-gen, dovrà pagare la differenza di circa 10 dollari o 10 euro, mentre le due edizioni premium si macchiano, a mio avviso, di un crimine ancora più grave. Però, prima di tutto, complimenti a Sony Santa Monica per essere riusciti a far doppiare il personaggio di Thor dalla persona più simile a Thor che io abbia mai visto. Comunque, in questo video unboxing, vediamo il contenuto della Collectors e della Yotnar Edition, di cui non sappiamo ancora il prezzo, ma che di sicuro non sarà la portata di tutti. Tutto bellissimo per carità, packaging perfetto, pieno di oggettini premium, e c'è anche il martellone di Thor che sembra bello pesante, ma la cosa scandalosa è che nessuna delle due edizioni, pur presentando all'interno entrambe la custodia Steelbook, conterrà il disco di gioco. Cioè, non so se vi rendete conto, chi deciderà di investire nella Collectors o nella Yotnar si troverà il gioco in edizione digitale, che è praticamente un invito ai collezionisti a comprarsi una seconda copia liscia, una scelta veramente criminale. I pre-order saranno aperti il 15 luglio, voi proverete a prendere una di queste due edizioni? E chiudiamo poracci con una notizia che farà la felicità dei vecchi utenti Wii e DSi, perché i rispettivi e-shop sono tornati funzionanti dopo mesi di disservizio. Esattamente quattro mesi fa erano partite le prime segnalazioni da parte degli utenti che facevano notare come fosse impossibile accedere ai due negozi digitali di Wii e DSi. La risposta tardiva e generica di Nintendo aveva lasciato intendere che non ci fosse tutta questa fretta nel risolvere il problema, e anzi, molti credevano che l'azienda avrebbe fatto morire la situazione e chiudendosi in un silenzio stampa. E invece no, da oggi gli e-shop sono nuovamente navigabili, ma fate attenzione. Non è che siamo tornati a una situazione dove è possibile aggiungere credito o Wii Points e comprare prodotti. No, semplicemente, gli utenti hanno di nuovo accesso ai server e possono riscaricare i prodotti acquistati in precedenza prima della chiusura definitiva dei due servizi. È comunque una nota positiva per chiudere una storia che forse, senza le segnalazioni degli utenti, sarebbe risultata nell'abbandono definitivo degli archivi Nintendo Wii e DSi. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro, Michele Jotnar. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Occhio! podcast 4 Questi baffi fanno schifo! Vale così! Vale go! Occhio! 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 Occhio!